Che cosa avete imparato da questa esperienza? Qual è la parola che hai trovato? Ampliare, significato, sviluppare le proprie conoscenze e approfondirle. Per ampliare le nostre conoscenze utilizziamo vari mezzi. Guardiamo filmati e documentari sulla LIM, leggiamo e consultiamo libri, utilizziamo app e concettuali per approfondire un argomento e lavorare insieme. Trasmettiamo le nostre conoscenze agli altri. Qual è la vostra parola? Condividere. Questa parola l'abbiamo detta noi e questa è una delle parole chiavi dell'aula 3.0. Allora, condividere significa mettere in comune le proprie opinioni, oggetti, pensieri e parole. Comunicare significa esprimere un parere, un pensiero, un'idea con le nostre parole. Abbiamo fatto delle diverse immagini dell'aiuto reciproco. Allora, lì stavamo pensando a un'idea che dovevamo proporre a tutti i compagni. Io commento e gli potrei dare un'idea, visto che prima non sapevano che idea potevano dare al gruppo. E invece la terza abbiamo l'illuminazione grazie all'aiuto di Viola. La tua parola è vivacità. Vivacità significa quando una persona è felice, non è passiva e ha voglia di partecipare. Ma anche i colori possono essere vivaci quando sono brillanti e accesi. Grazie alla velocità tu puoi avere delle illuminazioni perché anche la tua mente è vivace. e quindi puoi avere una mente innovativa. Noi abbiamo fatto un progetto che spiega come puoi essere una mente innovativa. Diciamo, tu devi avere delle proprietà. Devi essere visionario, coraggioso, determinato, collaborativo e riflessivo. E' una cosa che abbiamo tutti? Sì, però la devi applicare. E qua facciamo il paragone della testa che ha tutte le proprietà, però non le applica, no? E invece questa qua ha tutte le proprietà, però le applica e ha l'illuminazione. Secondo te l'aula 3.0 aiuta i bambini in questo? Secondo me molto, sì. Scoprire significa cercare di capire un argomento o una parola, approfondendo di più sulla situazione. La scuola non può assolutamente eludere dall'uso delle tecnologie. Anzi, deve aiutare i ragazzi a sviluppare un uso critico delle tecnologie. Le tecnologie sono uno dei tanti linguaggi che i bambini, fin da piccolissimi, imparano ad utilizzare immediatamente. Sono i nostri nativi digitali. Quindi non è proprio possibile che la scuola stia all'fuori di questi linguaggi. E quindi uno dei suoi compiti è alfabetizzare i bambini nel linguaggio tecnologico. Sono solo due mesi che noi stiamo lavorando in quest'aula, la 3.0, perché è un'aula dove abbiamo posto una particolare attenzione al setting di apprendimento. Troverete un'aula completamente diversa, dove non ci sono i soliti tavoli tradizionali, ma tavoli circolari, postazioni che si modificano a seconda dell'attività che vogliamo fare. Dove tutto è aperto perché tutto deve essere accessibile ai bambini e dove il punto fondamentale, il nucleo fondamentale del lavoro dei bambini è la collaborazione e la condivisione. Loro dicono che non esiste più la postazione del docente, il docente è colui che si muove in maniera flessibile intorno a loro, ma loro sono posti al centro nel processo di apprendimento. E la loro capacità di condividere, collaborare, di confrontarsi è quella cosa che dà un significato aggiunto a un processo di apprendimento. Questo qua è un sistema solare che però è stato fatto con materiale di riciclo e non con materiale comprato, con materiale che poteva essere buttato, però è stato recuperato e con questo materiale abbiamo costruito questo sistema solare. In questa aula ci sono vari angoli, l'angolo della lettura, l'angolo dei libri, l'angolo della musica e l'angolo della tecnologia. Per me è un nuovo mondo per conoscere concetti ma soprattutto capirli e approfondirli. Grazie a questa sistemazione dei banchi, questi colori e questa tecnologia riesco a lavorare meglio e quindi a imparare cose che mi serviranno nel futuro. Per me nell'aula 3.0 nascono nuove idee che aumentano la nostra conoscenza. Per me l'aula 3.0 significa non solo una fonte di apprendimento, ovvero l'insegnante, ma tutto può essere una fonte di apprendimento. Io per raggruppare tutte queste parole chiave di classe 3.0 come comunicare, progetto, dico esprimere perché come vedete nell'aula 3.0 ci sono questi angoli che esprimono delle attività. Per me l'aula 3.0 è una nuova esperienza da compiere e da esplorare, molto emozionante e sicuramente non noiosa. Noi abbiamo i banchi circolari, quindi abbiamo una relazione, ci possiamo vedere, discutere insieme delle nostre opinioni. Per me è una relazione. Come si può notare in questa classe non ci sono né armadi né cassetti e vuol dire che la cultura è diretta verso di noi e come nei cassetti racchiude dentro qualcosa e non la può far vedere fuori. E così è come se la cultura venisse diretta verso di noi. Per me questa classe è una nuova esperienza perché è stata divisa in tanti angoli e insieme formano tipo un meccanismo di tutte le materie e tutte le materie si uniscono fra loro. Tutti insieme noi qua affrontiamo nuovi argomenti. Però classe 3.0 non è che si basa solo sulla tecnologia ma abbiamo ancora i libri e quando non riusciamo a trovare una parola che non capiamo tipo su un libro o su un testo la andiamo a cercare sul dizionario. Quindi classe 3.0 non è una classe che si può dire tutta tecnologica perché abbiamo ancora la funzione dei libri e i tablet li utilizziamo sì per fare esercizi ma i libri anche loro li utilizziamo. E poi volevo dire che secondo me i tablet sono degli strumenti perfetti per noi perché è lì che noi possiamo caratterizzarci e fare le nostre presentazioni, le nostre presentazioni, direi i nostri sentimenti e tutti i nostri testi li possiamo personalizzare con parole nostre. Felicità perché non solo perché la classe è tutta colorata ma perché noi a scuola ci vediamo anche con più, ci veniamo più sicuri. Sappiamo già che le nostre maestre ci fanno fare qualcosa di molto bello. Secondo me una parola che caratterizza molto classe 3.0 è il gruppo perché è insieme, insieme ai nostri compagni che affrontiamo nuovi argomenti e lavoriamo. E quindi non è solo più la maestra che ci spiega le cose ma insieme che proviamo ad approfondirle e a lavorarci. Grazie.